Difatti siamo al centro di Corvara, sto per iniziare l'ultimo passo, il passo Campolongo che misura 7 chilometri, la parte più difficile è la prima La cosa che si sa iniziare a riuscire, la parte più difficile è che ci si sa iniziare Une cosa che si sa iniziare a riscriver A prestigio delle donne, io giusto un po' più riscanto che non riceverso, iniziare la parte più difficile Per noi siamo al centro di questo, io davvero faremo 50 minuti I will be right here waiting for you Whatever it takes for how my heart breaks I will be right here waiting for you I will be right here I will be right here waiting for you Whatever it takes for how my heart breaks I will be right here waiting for you I will be right here waiting for you Whatever it takes for how my heart breaks I will be right here waiting for you I will be right here 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 I will be right here